Noi vogliamo migliorare consistentemente i servizi sia sociali che sanitari per i nostri concittadini e quindi un progetto su cui vogliamo lavorare, abbiamo già iniziato a costruire delle proposte, è quello di riutilizzare, utilizzare molto meglio di così tutta quella parte dell'area ex ospedale che purtroppo da molti anni è stata sostanzialmente abbandonata e non dà nessun servizio alla nostra cittadinanza. È stata un'area peraltro di grande prestigio collocata in un posto assolutamente facilmente raggiungibile nel cuore della nostra città. Quindi pensiamo di aprire immediatamente in confronto con l'Asla appena ci sarà la nuova amministrazione e in questo confronto cercare di portare in quell'area dei nuovi servizi. Pensiamo innanzitutto al tema di tutta la fase pre-ospedaliera e post-ospedaliera, quindi servizi che attraverso appunto una messa a disposizione, per esempio un centro riabilitativo, un centro di medicina organizzato in modo tale da impedire o precorrere il ricovero ospedaliero. Pensiamo agli anziani, quindi al tema delle case di riposo, al tema dell'assistenza domiciliare, ma anche al tema di alcuni alloggi, una decina, quindicina di alloggi per anziani autosufficienti.